25 poliziotti penitenziari accusati a vario titolo e in concorso di tortura, abuso d'autorità contro detenuti del carcere Pietro Cerulli di Trapani e falso ideologico sono stati raggiunti da misure cautelari e interdittive, 11 arresti domiciliari e 14 sospensioni dal pubblico ufficio. Emessi decreti di perquisizioni per un totale di 46 indagati, le indagini sono partite nel 2021. L'ordinanza del GIP di Trapani, su richiesta della procura, è stata eseguita dal nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria di Palermo con l'ausilio di alcuni reparti territoriali coordinati dal nucleo investigativo centrale. Le indagini sono scattate dopo alcune denunce effettuate dai detenuti del penitenziario trapanese che avrebbero subito maltrattamenti in luoghi privi di telecamere che una volta installate avrebbero registrato violenze reiterate da parte degli agenti.